Nel 1780 Carlo Francesco II Valperga di Masino diventa vicere di Sardegna, regnante Vittorio Amedeo III di Savoia. L'imponente castello di famiglia, che domina la piana di Ivrea fin dall'anno 1000 e che dal 1988 è del FAI che in 30 anni lo ha completamente restaurato assieme al grandioso parco e riaperto al pubblico, fu completamente ridecorato e riammobiliato per adeguarlo al nuovo rango reale. Il fratello del vicere, l'abbate Tommaso Valperga di Caluso eccelse negli studi letterari e filosofici. Pensate che parlava correntemente l'inglese, lo spagnolo, il francese e l'arabo e leggeva perfettamente il latino, il greco, il copto e l'ebraico. Fu membro dell'Accademia delle Scienze così come delle più importanti accademie letterarie dell'Europa del momento. Fu amico naturalmente dei più grandi letterati e filosofi del suo tempo tra i quali soprattutto di Vittorio Alfieri che molto spesso era ospite suo al castello di Masino. Al castello si conserva perfettamente inventariata dal FAI la favolosa biblioteca dell'abate in due locali affrescati e stupendi. Nella imponente e luminosa galleria del primo piano adiacente alla galleria dei poeti, nel 1814 l'abate Tommaso fece affrescare l'effigi di 22 poeti italiani, dove in una specie di gustosa e personale macedonia, ma sarebbe meglio chiamarlo dove nel suo personale panteon poetico, inserì i ritratti sia delle grandi glorie della poesia italiana che quelli dei poeti piemontesi contemporanei e amici suoi. Ad ognuno dei 22 poeti l'abate dedica un epigramma da lui composto che fa affrescare ai piedi dei 22 ritratti affrescati nella galleria. In un libretto di superba eleganza editoriale edito nello stesso 1814, Galleria di poeti italiani a Masino, l'abate spiega poi il significato di questi epigrammi. Leggo ora nel Dante D l'epigramma che l'abate Tommaso dedica a Dante. Dante Lighieri Con lingua nova ed arte malintesa in stolta età pur, tuo gagliardo ingegno vinse la dura impresa dei due penaci e del beato regno. Cosa vuol dire? Dante si è conquistato il beato regno, cioè la fame eterna, grazie alla lotta gagliarda fatta a favore della lingua nuova e della poesia. Che tanto lotta, che tanto tormento gli aveva dato. Ecco i penaci. Penace vuol dire tormento infernale, quindi la lingua nuova e la poesia erano stati un tormento infernale per lui nell'aiutarle a trionfare in quel mondo stile. Esprimiamo a Dante la nostra più grande riconoscenza e, non appena possibile, vi aspettiamo al castello di Masino.